musica 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 ma chi è? vuoi camminare da fianco al muro? ma te arrivi nelle scale delle scale non è che l'hai chiuso? la parte è chiuso non c'è fazzucchio ma lì c'è tipo una... che cazzo ho registrato? non lo so neanche io c'è una cava la cava? la cava di cava grande e la telecamera la butto lì sotto che accende? che accende? paparapam papapam 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 grazie 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 musica 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 ti auguri a Lorenzo tutti quanti è un grande Lorenzo Vittor ci abbiamo fatto rega che bello è tutto bianco questo posto di la idea di là c'è la cascata mi sembra amare hai pensato che ci buttiamo quelli di un weekend a bambuccioni si 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 Noi non fai quello Noi non fai quello Noi non fai quello Noi non fai quello